Ai magazzini del sale a Cervia, un edificio che molti ricorderanno di architettura industriale, anzi proto-industriale, del 1712 con bellissime arcate, a luglio 2020 si svolgerà la terza edizione della rassegna di arte contemporanea dal titolo evocativo I Mille di Sgarbi. D'altra parte è bella che studia in Italia con mille che la rappresentano nell'arte e nella bellezza. La rassegna è aperta a fotografi, che sono forse oggi quelli che esprimono in modo più diretto, con maggiore capacità emotiva, la realtà, perché essa è davanti ai nostri occhi nella sua evidenza. Fotografi, pittori, scultori, videoartisti e anche performer, designer, disegnatori, tutti quelli che si manifestano in modo creativo. Le richieste di partecipazione devono pervenire entro il 20 maggio. Adotteremo tutte le misure necessarie per il distanziamento sociale. Brutta parola che significa non poter stare tutti insieme, ma questo, nei limiti in cui il governo lo chiede, sarà garantito ai magazzini del sale di Cervia. Gli invitati da me e quelli che valuteremo con una commissione di accogliere potranno essere presenti ai mille di Sgarbi a Cervia, ai magazzini del sale. Mille e altri mille. Intanto, mille sono un numero emblematico, ma rappresentativo di una grande varietà della fantasia, dell'intelligenza, delle capacità degli artisti italiani.